Sì, ciao a tutti amici di Studio Camurrina. Ben ritrovati. Mi trovo a bordo della GMV. Sono svegliato da un'oretta. Sarà quest'anno la Sertima, l'ottava volta che prendo questa nave, a bordo che ce n'è tre modelli. C'è la Superba, la Suprema e la Majestic. In questo caso io sono proprio a bordo della Suprema. Vedete? Mi sparo chilometri per chilometri di mare. Vi ricordo che è quasi inutile pensare di poter mangiare qui a bordo. Il cibo è molto scarso, ma molto caro, quindi conviene prima di salire a bordo fare un sacchettino di spesa, un piccolo kit dove uno può gestirlo in 20 ore. Vi ricordo questo e inoltre vi ricordo anche sempre quando salito a bordo di spegnere completamente il cellulare o metterlo in modalità aerea. In quanto è veramente molto 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 pericoloso, in quanto la rete a bordo ha una rete a sé e tende a finire subito il credito attraverso la connessione e con una telefonata si paga il doppio, sia quello che la fa e quello che la riceve. Bene, detto questo vi abbraccio, grazie di tutto. Un saluto da Studio Camurrina e dalla G&V. Ciao!